Cosa farò dopo la terza media? La scuola salesiana CNOSFAP di Vercelli offre ai ragazzi percorsi formativi che permettono di entrare subito nel mondo del lavoro. Corsi di formazione professionale di termoidraulica, automotive e meccanica industriale. Operatore del benessere e indirizzo a conciatura. La sede CNOSFAP in via Randaccio 14 a Vercelli ti aspetta. Per accedere alle iscrizioni online per l'anno scolastico 2022-2023 è necessario utilizzare il sistema pubblico di identità digitale SPID o la carta di identità elettronica CIE oppure una delle identità digitali europee notificate EIDAS. La modalità per i servizi online diventa semplice, veloce e sicura. Informati su www.identitadigitale.gov.it L'identità digitale in Italia. www.identitadigitale.gov.it 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 www.identitadigitale.gov.it